eccoci eccoci ma buon natale arriva ragazzi sto per fare delle gare secondo me epiche da guardare perché succederà di tutto andiamo con le skip barber a montreal che non va molto d'accordo la skip con montreal ma fa niente ma andiamo dino ci sei ragazzi facciamo subito due giri perché sono qua è finita numero 6 del server è dura devo mollare il gas ogni volta che cambio con sta macchina qua mamma mia ragazzi avete vista la maglietta si avete vista la maglietta what are you doing qui devo scaldare da morire si scalda scaldale voi dai in carena in carena sotto il volante dai comunque se no 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 non farlo mai più dai 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 no sbetto la marcia dai dai come on come on push 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 4 e 9 vabbè dai improvvisata così ci sta non sono ultimo mamma mia che partenza per leo mamma mia leo c'è paurissima ho paurissima ho paurissima potete aspetto aspetto aspettarci per favore per favore contento fiore scappare potete scappare portare scappare no 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 oddio ecco adesso la pago Ma che push Ma che push che qui No all'esterno Qua Non mi sembra Ma come puoi pensare Di passare all'esterno No 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 Ma siamo troppi No no Che attraverso Aiuto Non è una bella idea però Aspettateci Perché da qua è tutto a trenino Pepepepepepepepepepepe Ma tre secondi Come faccio a riprenderli Non si scappa Con la schifla Dai Dino Aspettateci No U U Muro Guardali Morti Dai dai No Eh quando Eh si Why Oscar Why Why e sorri e ho capito non già visto non è che sei ben dato dei giochi ben dato non mi vedi se apri con gli occhi aperti giochi e avete capito o ecco come se un po piegato qualcosa ricordo la prima cura sinistra rompe la macchina sbaglio attenzione non c'è da sopra potete anche dire un po prima no? 8 fritzler e 10 chi è? quello di dragon ball? no quello è freezer no chi è? oh che pelo che pelo dai tirami 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 dobbiamo prendere quello lì ma perché? ma perché devi fare così? perdere tempo è riuscito a prendere il terzo eeeh se non ci disturbassimo si eh diglielo voi faccio comunicare con i gesti perché non mi ascoltano oddio so come va a finire mamma mia sorpasso all'interno no no non l'avete capito cioè forse voi che avete visto si dino no dai bene bene che mi sono attaccato adesso dai dai ho preso il terzo ho appena scoperto che faccio la seconda chicane di merda io ho tutta la pista ah can I go? grande ecco è tutta collaborazione in queste macchine qua madonna che ho vedo un pederico leo selvatico in terza posizione no no non farlo no 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 sei matto? è la cosa più bella che ci sia fare una gara con la skip barber con le persone corrette devo mollare no ma è un casino che non avete neanche l'idea l'ultimo giro che succederà ultimo giro tutto devo dare non ce la farò mai mi passerà sicuro non c'è modo non c'è modo si 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 what are you doing what are you doing? ma che traverso tutto di traverso è il podio è il podio per il leo racing team ricordatevi di seguirmi su instagram e sul primo canale ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao